Ciao, benvenuto in questo nuovo video post dedicato questa volta al concetto di creazione. Nei post precedenti, in particolare quelli dedicati alla manipolazione, noi abbiamo visto la prospettiva della creazione dal punto di vista della realtà virtuale, dalla parte appunto di questa illusione, di questo mondo illusorio e abbiamo visto che questa creazione è fine a se stessa, cioè genera altra divisione, genera contrasti e porta a quella che abbiamo visto nell'ultimo post che è l'educazione, cioè il mezzo attraverso il quale c'è una continuità di questo mondo virtuale, di questa divisione e attraverso la quale il mondo virtuale si sostiene, si regge. Però vediamo che all'interno di questa virtualità in cui sguazza la nostra personalità divisa, divisa in tanti ego che mettono ogni giorno una maschera diversa a seconda della persona con cui si relaziona, abbiamo necessità fondamentalmente di capire il senso che ha tutto questo, ma non possiamo capirlo dalla prospettiva virtuale, perché non possiamo capire le cose dalla prospettiva dell'illusione, della realtà fittizia. Dobbiamo spostarci nel mondo reale, cioè cambiare prospettiva ed entrare in un mondo che non ha bisogno di cambiare, ma che attraverso il cambiamento che proietta comincia a comprendere se stesso e ad avere consapevolezza di quelle possibilità che veramente puoi esplicare. Allora che cos'è la creazione? Poiché noi siamo esseri relazionali, persone che si relazionano giorno per giorno con altre persone e con la virtualità, con gli oggetti della virtualità, è importante capire che questa relazionalità è generata dalla creatività. La creatività, la creazione, è appunto la capacità dell'essere profondo di creare nuovi collegamenti tra cose, persone e quindi di mettere in relazione la divisione della virtualità affinché questa stessa divisione possa essergli da comprensione della vera possibilità dell'essere profondo. L'essere profondo si conosce attraverso l'integrazione, abbiamo detto, con la realtà virtuale. E questa virtualità gli permette questo soltanto se egli riesce a collegare, a ricreare l'unità che ha nella realtà reale anche all'interno della virtualità. Allora questa cosa sembra un po' stramba perché, cioè, che cosa fa la coscienza? Prima proietta migliaia di divisioni per fare cosa? per tentare poi la riunificazione, ma perché la coscienza è una. Noi siamo esseri relazionali perché siamo tutti collegati e tutte le parti di noi che si relazionano fanno parte appunto di questo sistema stupendo che è appunto la coscienza, che vuole conoscersi. Ed è meraviglioso capire che tutto ciò che sembra in apparenza diviso non fa altro che concorrere all'esperienza del fare. Infatti creare significa appunto fare. In post precedenti abbiamo analizzato un concetto fondamentale che è il concetto del fare. L'abbiamo collegato alle due modalità di esplicazione della propria manifestazione, che sono il verbo essere e il verbo avere. E abbiamo detto che il verbo avere è il verbo della virtualità, mentre il verbo essere è quello proprio di uno stato che è immutabile, che è quello dell'essere profondo. Il fare è l'agire dell'essere profondo in questa virtualità e il fare è creativo laddove è relazionale, laddove si creano dei cambiamenti, laddove si creano dei collegamenti. Quindi questi link non fanno altro che attivare dei processi di interazione, di feedback a doppio senso, cioè non solo in una direzione. Mentre nella realtà virtuale, attraverso la manipolazione della realtà virtuale, noi abbiamo soltanto un senso dal soggetto che parla verso il ricevente senza la integrazione ricettiva. Perché? Perché se non si vuole cambiare, perché se si vuole manipolare l'altro, l'altro non si vede, l'altro non si sente, ci si sente soli, si diventa praticamente egoisti. Egoista significa essere al centro del proprio universo, laddove però gli altri non esistono. Nella prospettiva dell'essere invece, la creazione non fa altro che attirare l'altro all'interno del proprio universo affinché l'altro insieme alla propria individualità sperimenti questo mondo. Questo altro chiaramente di comune accordo si introduce all'interno del proprio universo e diventa il complice del proprio universo. Egli stesso, attraverso il processo empatico, cresce perché egli stesso sta entrando nel tuo universo, nel nostro universo, perché noi lo abbiamo chiamato e perché egli stesso ha bisogno di entrare nel nostro universo. Laddove noi esercitiamo questo processo relazionale, questo processo empatico, che abbiamo detto in post precedenti, si attua attraverso l'azione simpatica, cioè il collegamento, il link tra due persone, quello che si chiama scambio informativo profondo, non è altro che un atto di creazione. Quindi la creazione non è altro che l'azione stessa della propria volontà in cui l'altro è complice. Complice fondamentalmente di un universo che è proprio, un universo visto dal punto di vista della propria individualità e dal fatto che non si è più egoisti, perché l'individualità non significa essere soli nel proprio universo dalla prospettiva dell'essere, significa essere collegati al tutto. Ma questo collegamento, questa diversità tra gli individui, funge da modalità attraverso le quali l'essere profondo espande la sua consapevolezza. Ciao, al prossimo post. Ciao ciao!